Ciao da Avsim! Domenica 9 maggio la Juventus scende in campo per Juventus-Milan ed è una partita fondamentale no, in realtà no, perché il Milan in Champions League ci può ancora andare, la Juve sarà probabilmente fatta fuori dalla UEFA ma no, lasciamo le questioni Superlega anche per quanto riguarda il sarcasmo fuori dal campo e proiettiamoci sul campo devo dire la verità, mi fa piacere che oggi giochi la Juventus nonostante nelle ultime settimane ci ha fatto abbastanza penare sul campo perché è una grande sfida, è bello giocarsi un Juventus-Milan a maggio anche se vale per la classifica ma non per lo scudetto anche se l'Inter l'ha già vinto e lo sta già festeggiando ed invece negli anni, anche nei decenni scorsi di questo periodo quando si giocavano queste grandi sfide la Juve appunto era in corsa per il titolo o forse l'aveva pure già conquistato però effettivamente è una partita affascinante, ci sono tante sfide nella sfida pensiamo a Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo per l'ennesima volta a significare quanto il calcio italiano e la Serie A siano indietro perché sono due giocatori molto anziani per quello che è il livello di calcio anche se sono ancora molto forti ma appunto troppo decisivi nel contesto italiano mentre fuori anche quelli un po' più avanti con l'età cedono il posto ai più giovani anche se sono forti forti ecco potrei fare il nome di Lewandowski adesso pare lascerà il Bayern Monaco ma potrebbe venire proprio alla Juve giusto per lasciare l'età media allo stesso livello però ripeto parliamo di questo Juventus Milan per quanto riguarda il quale Stefano Pioli mister dei rossoneri ha detto vincere contro l'Iventus sarebbe straordinario è una partita ovviamente affascinante e stimolante, l'abbiamo preparata nel migliore dei modi c'è in maniera ovviamente molto puntuale, molto precisa e poi c'è anche il discorso Donnarumma, ecco altra sfida nella sfida ed è difficile effettivamente valutare come sarà l'impatto sulla partita di Gigio Donnarumma cioè è uno che potrebbe cambiare squadra non è frequente che un portiere scenda in campo contro la sua probabile prossima squadra ed è una cosa molto delicata, molto diversa rispetto ad un attaccante o a un giocatore di movimento di qualunque altro ruolo perché il portiere può essere molto più decisivo e Donnarumma ne ha fatti di errori in porta in generale e per questo secondo me non è tra i 5 migliori portieri al mondo come ha detto Pirlo ieri in conferenza stampa e ne ha fatti anche contro la Juventus se Donnarumma dovesse sbagliare qualunque cosa ma qualunque cosa, da un calcio di rinvio ad un rigore stasera non so che cosa succederebbe infatti mi auguro che faccia la miglior partita mai fatta anche a rischio di non veder segnare la Juve per non sentire, no in realtà no spero che ovviamente la Juve segni faccia anche tanti gol e stravinca anche dimostrando di meritare sul campo la vittoria quindi convincendo oltre che vincendo però poi la situazione di Donnarumma resta delicata rispetto alla quale Pirlo ha detto è un problema loro noi facciamo i complimenti a Donnarumma per quello che sta facendo ne parleremo ne parleremo perché è evidente che qualche movimento ci sarà d'altra parte Donnarumma non ha ancora rinnovato e va in scadenza tra poco ma c'è anche la sfida di Mandzukic che torna per la prima volta all'Allianz Stadium dopo aver lasciato la Juventus e quindi da rivale e ci sarà anche una qualche divisione di cuore soprattutto tra gli ultras e i tifosi che erano sempre presenti prima allo stadio che sono i maggiormente innamorati di Mario Mandzukic ma potrebbe anche non scendere in campo così come potrebbe scendere in campo e non incidere anche se è un gol di Mandzukic devo dire che forse non è neppure quotato e poi c'è la sfida tra Di Bala e Ronaldo perché entrambi sono a 99 gol con la maglia della Juventus chi segnerà il centesimo per primo? io credo che oggi uno dei due il centesimo lo fa anche perché storicamente sia Di Bala che Ronaldo hanno quasi sempre segnato contro il Milan bisognerà vedere però chi a livello di minutaggio lo farà per prima anche perché probabilmente Morata non partirà titolare ma delle formazioni parliamo dopo Pirlo ha detto i giocatori sono concentrati i ragazzi sono sul pezzo e quindi io sono sereno bene segnatevi queste parole per il post partita perché se vediamo l'ennesima partita della Juve deludente qualcuno ci dovrà spiegare che cosa ha visto Pirlo nei giocatori e perché lui era così sereno ma d'altra parte anche in conferenza stampa che se non avete ascoltato potete rileggere in versione integrale sul mio sito avsin.video, link in descrizione Pirlo è sembrato fin troppo sornione ben poco dentro la partita anche a livello tattico ha detto sì, sono due squadre che puntano a giocare molto il pallone, puntano a ritmi alti potrò fare finalmente cinque sostituzioni ha detto perché la Juve ha tutti i giocatori a disposizione per la prima volta dall'inizio della stagione perché cinque sostituzioni sono molto importanti nel calcio di oggi, bisogna sfruttarle perché ti fanno tenere i ritmi alti e quindi qualcuno dovrebbe spiegarci perché Pirlo quando pur non avendo tutti a disposizione aveva comunque tutti i cambi possibili e non ha mai fatto, quasi mai fatto cinque sostituzioni faremo anche un approfondimento su questo su questo canale o nel mio podcast che vi invito a seguire su Patreon in versione integrale patreon.com slash absim e cos'altro possiamo dire Pirlo ha anche detto McKennie è dimagrito perché effettivamente si vedeva che era leggermente sovrappeso quindi è un professionista al 100% Rabiot quando è entrato l'altra volta a Udine ha dimostrato come bisogna entrare in campo come tutti i giocatori dovrebbero entrare in campo con la maglia della Juventus quindi pur avendo saltato tutta la partita ma subentrando solo alla fine ha dato un ottimo esempio entrando molto bene e poi c'è il discorso appunto che secondo Pirlo sarà una bella partita perché la Juve questa Juve quando deve affrontare grandi sfide non manca l'appuntamento e quindi per questo si parla poco di tattica perché è come se la partita si giocasse da sola solo perché di fronte abbiamo il Milan e il gruppo da questo punto di vista è molto compatto passiamo alle statistiche a un pochino di tattiche alle formazioni per questo Juventus-Milan di stasera stasera alle 20.45 questa domenica 9 maggio 2021 naturalmente in diretta su Sky Sport quindi non potete sbagliare veniamo allora alle statistiche Juventus-Milan sono a pari punti quindi mettiamo che la Juve sia a quarta effettivamente per la differenza rete il Milan è quinto ma a pari punti 69 con lo stesso numero di partite e credo che non fosse mai capitata una cosa simile quantomeno non per la lotta Champions ma magari per lo scudetto in anni passati ed è la prima volta tra l'altro che la Juve quest'anno affronta una squadra che ha i suoi stessi punti nel momento in cui ci va a giocare quindi è una sfida veramente particolare da questo punto di vista il Milan tra l'altro ha fatto 9 punti nelle ultime 5 la Juve 10 quindi 5 partite fa la Juve era un punto dietro e se ricordiamo anche mesi fa la Juve era parecchi punti dietro al Milan che conduceva il campionato ma che si capiva che non l'avrebbe vinto e non avrebbe lottato fino alla fine in testa la classifica 62 i gol fatti dal Milan 41 quelli subiti che secondo Understat sono comunque un dato negativo per quanto riguarda i gol fatti soprattutto rispetto agli expected goals cioè il Milan avrebbe potuto segnare 66 gol e avrebbe dovuto subirne 46 quindi una certa efficienza difensiva per il Milan però per quanto riguarda il Milan visti i rigori dobbiamo togliere gli expected goals togliere i rigori e quindi andare a guardare i non penalty XG che ci diranno che il Milan a livello di potenzialità offensiva di gol ne avrebbe dovuti fare 54 quindi tolti i rigori l'efficienza del Milan è maggiore rispetto a tenere a tenere in considerazione anche i rigori un Milan che comunque a livello di classifiche di rendimento di statistiche non è certamente da prime quattro posizioni è ottavo per possesso palla 52% medio la Juve è seconda con 56 e mezzo nono per passaggi 471 la Juve è seconda con 576 sesto per precisione 84 questo al di là dello stile di gioco puoi fare meno passaggi puoi fare più passaggi lunghi puoi fare meno possesso però la precisione è importante e il Milan sesto non è un'ottima posizione 84% dicevo la Juve prima con 88 e mezzo ecco anche per quanto riguarda i tiri c'è una grandissima vicinanza tiri in porta e tiri totali tra Juventus e Milan sono praticamente vicine il Milan fa 15 tiri a partita la Juve 15 e mezzo ed entrambe le squadre ne fanno 5 e mezzo se parliamo dei tiri in porta quindi sono alla terza e alla quarta posizione rispettivamente Juventus e Milan il Milan però subisce anche un tiro in più in media partita da parte degli avversari è 12 la Juve 11 e per quanto riguarda i contrasti è la prima squadra della Serie A il Milan è la squadra che fa più contrasti in media partita è 16 la Juve invece ne fa 15 per quanto riguarda gli intercetti invece il Milan ne fa circa 10 la Juventus è 12 e mezzo perché vi do anche tutti questi dati per capire anche il livello e il tipo di aggressività che tolti questi numeri who scored su understat ci viene qualificata meglio se parliamo del PPDA quindi dell'indice della riaggressione quanti passaggi il Milan consente o riesce a fare all'avversario e da parte dell'avversario prima di subire un intervento difensivo e quindi il PPDA del Milan è 9 e mezzo mentre quello in riaggressione passiva è 12 giriamo pagina perché ho gli appunti che restano su come gioca il Milan che è una squadra che ha fatto tantissimi gol su calcio piazzato e soprattutto su rigore però ridendo e scherzando come si suol dire cioè senza tanto accorgercene voi perché magari guardiamo che su corner non riusciamo a segnare e su punizione Ronaldo prende sempre la barriera la Juve intanto è al terzo posto come squadra che in Serie A ha fatto più gol da calcio piazzato pian piano abbiamo salito la classifica e quindi ne abbiamo fatti 11 da non disegnare questo fatto anche perché il Milan subisce anche parecchio da calcio piazzato a livello di gol in questa stagione in Serie A quindi sarà un'arma soprattutto con Di Bala in campo più che con Ronaldo a livello di proposta di calcio e proposta offensiva il Milan ha un attacco distribuito in senso orizzontale tra le due fasce e la zona centrale del campo tirano però prevalentemente dalla fascia centrale e anche un po' più dalla sinistra rispetto alla fascia destra tirano ovviamente per lo più dentro l'area di rigore ma poco in area piccola e tirano anche molto da fuori infatti Pioli in conferenza stampa ha anche detto noi tiriamo tanto da fuori ma non riusciamo ad essere precisi dobbiamo migliorare su quello subiscono tiri dalla fascia centrale e dentro l'area di rigore e hanno un baricentro sostanzialmente medio alto veniamo a questo punto alle formazioni il Milan di indisponibile ha soltanto Castiglieco perché è squalificato per il resto anche il Milan ha tutti a disposizione dal punto di vista della tenuta fisica degli infortuni io ho scritto qui sul mio quaderno di appunti nessuno ha la voce indisponibile Juventus ma l'ho scritto più grande che potevo perché è una cosa clamorosa davvero la Juve ha sempre avuto 6, 5, 4, 3 molto spesso due assenti a partita tra tutte le competizioni quest'anno quindi questo sicuramente dobbiamo tenerlo in considerazione come fattore della stagione non che sia stato o possa essere stato determinante per la scarsa proposta di calcio di Pirlo e per il rendimento anche deludente di alcuni singoli però è stata una componente per la prima volta Pirlo ha tutti ma veramente tutti a disposizione però ci sono 4 diffidati che potrebbero condizionare le scelte di formazione Bonucci e Delict in difesa e quindi uno dei due ma a parte la diffida uno dei due dovrebbe andare in panchina e forse sappiamo già chi è e poi ci sono anche McKennie e Ronaldo che ha deciso di sparare quel pallone in ceno quando non aveva fatto gol e se la sarebbe potuta risparmiare con l'ammunizione ma comunque non essendo uno che ne prende molti di Gialli va tranquillamente in campo perché non dovrebbe rischiare e tanto anche se gioca male non sarà sostituito lo sappiamo sì però a Udine meno male che non è stato sostituito perché dall'83 in avanti ha fatto due golli e abbiamo vinto vabbè d'accordo però Pirlo ha anche detto in conferenza stampa che Ronaldo a Udine ha zittito le critiche ecco anche qui evidentemente Pirlo non ha guardato bene la partita come non l'ha guardata dicendo abbiamo visto e rivisto la partita d'andata che effettivamente è stata una delle migliori prestazioni della Juventus e quindi abbiamo visto che si era giocata molto bene anche se avevamo tre assenti Quadrado Alexandro e De Ligt ce l'ha vista talmente bene che non si è accorto che invece De Ligt era in campo e risultò positivo al coronavirus il giorno dopo vabbè comunque possiamo anche far passare queste amnesie a Pirlo perché ce ne sono di più gravi venendo invece alla formazione quella ipotizzata da Sky in particolare per quanto riguarda il Milan vede appunto Donna Rumma in porta in difesa Calabria Chiaer Tomori e Teo Hernandez in mediana Ben Nasser e Kessi sulla tre quarti Sale Makers Brian Diaz e Cialanoglu e in attacco Ibrahimovic la formazione della Juventus ipotizzata dalle tv e dai giornali io non l'ho voluta guardare vi do direttamente la mia proposta so soltanto che stanno dicendo che giocheranno Chiellini e Bonucci quindi ci sarà De Ligt in panchina non sono d'accordo ovviamente De Ligt deve giocare tutte le partite tranne quando appunto è squalificato i calcoli li facciamo se De Ligt non è disponibile ma se è disponibile non ci sono calcoli da fare deve essere titolare punto e basta però purtroppo sapete che c'è qualcuno che sta per finire la sua carriera anche se vorrebbe continuare a giocare e che quindi vuole continuare a fare determinate partite non se ne frega nulla del bene della Juventus e del futuro della Juventus pensa solo a fare le sue partite anche se può essere magari un elemento negativo nel corso della gara perché sarebbe preferibile qualcun altro al posto suo e quindi purtroppo pare che ci dobbiamo arrendere a questa supremazia e a questo sovvertire le gerarchie di efficacia in virtù delle gerarchie di prepotenza ecco quindi probabilmente Pirlo che tra l'altro si piega a queste cose non metterà De Ligt in campo e allora Scesni ha annunciato titolare che tra l'altro è stato giustamente difeso da Pirlo perché ha ricevuto delle critiche ingenerose anche perché si sta parlando tanto di Donna Rum in difesa io metterei quadrato terzino destro perché Alexandro non mi convince assolutamente in questo periodo e metterei quindi Danilo a sinistra Danilo terzino sinistro che significa anche slittamento con difesa 3 ma significa anche un maggior numero di giocatori in mediana un apporto come sapete di Danilo in mediana come appunto centrocampista aggiunto in fase di costruzione i centrali per me che sono che dovrebbero essere i titolari sempre De Ligt e Bonucci tanto comunque sono diffidati pazienza se vengono ammuniti poi ci pensiamo per il Sassuolo a chi mettere è stato recuperato anche De Miral a Reggio Emilia contro il Sassuolo puoi anche mettere De Miral che è pure un ex quindi non ci sono problemi a rischiare due diffidati per quanto mi riguarda al centrocampo io metterei Mekenni perché secondo me sta abbastanza bene sulla destra quindi con facoltà di accentrarsi anche perché davanti metterei Di Bala e quindi quadrato Mekenni si intendono sempre molto bene e anche Mekenni Di Bala per cui lo metterei nella zona di destra Artur e Rabiot in mezzo perché Rabiot sta pure molto bene e Artur lo vorrei vedere sempre titolare se ce la fa e pare che stia bene dal punto di vista fisico ovviamente Federico Chiesa immancabile che ha recuperato tra l'altro perché ha saltato le ultime due partite dall'altra parte anche se lui preferisce a destra però a sinistra con Ronaldo che taglia verso il centro e Di Bala a fare gioco dall'altra parte potrebbe funzionare senza contare che abbiamo messo Danilo che spinge poco sulla sinistra appunto Chiesa Rabiot Chiesa Ronaldo può funzionare la costruzione del gioco lì davanti appunto in attacco di Bala Ronaldo questa è la mia proposta di formazione fatemi sapere se siete d'accordo e ditemi anche tutto il resto che vi va di dirmi nei commenti compreso anche magari un pronostico grazie allora per l'attenzione mettete like a questo video se vi è piaciuto il pre partita di Juventus Milan ci vediamo per il post partita live appena sarà terminata la gara in diretta qui con chat aperta agli abbonati quindi abbonatevi al canale se ancora non l'avete fatto per poter commentare live con me come sarà andata Juventus Milan e iscrivetevi al canale attivando le notifiche per non perdere i prossimi video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve Grazie